Premiare le eccellenze della comunità, questa la missione del Rotary International che questa mattina nella suggestiva cornice del museo M9 di Mestre ha lanciato ufficialmente l'iniziativa Virtuosi 2019, un progetto che mira a dare il giusto riconoscimento a chi fa della propria professione un punto di riferimento per la comunità. È un'iniziativa che ha trovato l'avvio un anno fa su idea della Rotary Club Venezia, coinvolto 10 club della provincia di Venezia che sono qui oggi tutti rappresentati e si propone questa iniziativa di premiare sostanzialmente i Virtuosi, cioè un premio alla professione, alle eccellenze professionali, ma non in quanto eccellenze per i risultati raggiunti nell'ambito professionale ma per l'approccio etico alla professione, per i valori che esprimono nel loro ambiente e quindi per la capacità di essere portatori indiretti. Direttamente anche dei valori di cui Rotary è da sempre rappresentante. Un'iniziativa che non guarda ristrettamente all'interno del mondo rotariano ma che coinvolge ogni realtà che possa essere d'ispirazione a tutti i professionisti. E soprattutto coinvolgere la cittadinanza, il premio è riservato a non rotariani, quindi a persone che condividono i nostri valori e che però non fanno parte o ancora non fanno parte della nostra associazione. Ci sono molte persone nelle nostre regioni che si impegnano, che danno il loro tempo, che danno la loro professionalità per gli altri e il Rotary ha pensato di mettere in evidenza questo aspetto della vita sociale.